Allora professore, saranno molte le donne in ascolto interessate, non soltanto le donne, esiste un trattamento analogo alla liposuzione per togliere il grasso in eccesso? Sì, anche se non esiste una sovrapposizione, cioè questa nuova tecnologia che si chiama criolipolisi non sostituisce la lipaspirazione ovviamente, anche perché è un'indicazione ben precisa e l'indicazione è quella del tessuto adiposo in eccesso in zone limitate e soprattutto in zone che possano essere prese con una plica. Cosa vuol dire? L'apparecchiatura prevede un'aspirazione della plica di tessuto adiposo. La plica sarebbe la piega? La piega, sì, la piega di tessuto adiposo. Entra all'interno di questa camera che la porta a meno 8 gradi, per un tempo sufficientemente lungo, circa 70 minuti. Questo permette al freddo di raggiungere il tessuto adiposo che è molto sensibile alle basse temperature e ne determina nel tempo una morte cellulare, per cui la riduzione del tessuto adiposo avviene non perché lo aspiriamo, perché lo rompiamo, ma perché diciamo che lo convinciamo a morire, lo portiamo a morte. È un trattamento doloroso? Non è doloroso, tra l'altro è un trattamento molto sicuro, se ne può parlare perché sono state fatte moltissime sperimentazioni e moltissime pubblicazioni su riviste internazionali su un congruo numero di pazienti, quindi ne è stata assolutamente provata l'efficacia, ma soprattutto la sicurezza. Il risultato non si vede subito, perché ovviamente il tessuto adiposo ha bisogno di tempo per morire, per ridursi, e per cui si vede dopo circa tre mesi, da due a tre mesi dopo. Può essere ripetuta, anche se in letteratura è prevista una riduzione da un 18% a un 25% del volume di tessuto adiposo per ogni seduta. Quali sono i risultati dopo qualche mese in termini di centimetri? Allora, intanto va fatto su pazienti che abbiano una piega di tessuto adiposo di almeno 4 cm, quindi non può essere fatta per delle piccole rifiniture. La riduzione è di circa un centimetro, un centimetro e mezzo su una plica di 4 cm ed è soprattutto stabile nel tempo. È ovvio che se i pazienti poi ingrassano di nuovo si riforma, però il risultato è stabile, per cui è una perdita effettiva di volume di tessuto adiposo. Adesso veniamo alle dolenti note, è un trattamento molto costoso? Ma sicuramente molto meno di un intervento chirurgico, di una lipoaspirazione. Diciamo che rientra un po' nel range dei trattamenti della medicina esterica, quindi decisamente abbordabili. Bene, grazie. Grazie professore.